Con questo video tutorial vediamo come aggiungere al tema PASO 2011 originale una barra orizzontale, un menu orizzontale in basso sotto il footer un po' come quella che troviamo nell'edizione successiva anche se in realtà stiamo lavorando sul modello 2012 però c'è stato già fatto qualche piccolo intervento nel modello precedente vedete ad esempio la presenza di un menu orizzontale sotto il footer ecco questo è l'obiettivo, aggiungere questo menu orizzontale inferiore a un sito che non lo contiene bene, come fare per raggiungere questo obiettivo? in questo caso io mi rifaccio a un sito così di appoggio poi però metterò a disposizione quelle che sono le parti di codice da incollare nella posizione corretta la prima cosa da fare è agire all'interno del file function.php per fare questo andiamo nel sito che contiene la nostra barra andiamo in aspetto editor e cerchiamo il file function.php naturalmente questo è il discorso che faccio al momento per spiegare il passaggio da un tema all'altro poi metterò a disposizione il codice senza che si debba andare a prenderlo ovviamente da un sito di cui non si è amministratori in particolare ci interessa andare a prendere questo piccolo straccio di codice vedete no? qua dove c'è la parte menu trovate a un certo punto il menu 2 e poi il menu 3 il primo pezzettino è proprio questo quindi copio questa variazione al menu function.php vado nel sito da modificare collego ecco non ricordo la password vediamo se è questa se no devo rifare tutto ultimo tentativo se no rifaccio da capo ecco mi sono ricordato finalmente al terzo tentativo andiamo quindi a incollare questo primo elemento nel file function.php eccolo qua andiamo a ricercare la parte su menu e proprio in questa posizione metto una virgola vado a fare invio ed ecco inserita la terza voce che è quella che ci mancava perfetto andiamo a salvare e aggiornare il file in questo modo è identico in quei due elementi fatto questo cosa si tratta di andare a fare? si tratta di andare a inserire nella posizione voluta un altro pezzettino di codice cioè nel footer uno straccio di codice che richiame appunto questa barra andiamo a vederla allora nel sito che la contiene andiamo in editor footer.php ammesso che noi vogliamo inserirla esattamente nel footer andiamo a cercarla eccola qua il piedi pagina il template footer.php andiamo in basso e vedete cosa troviamo esattamente diciamo sotto la chiusura del div un div id footbar che precede il php do action vp footer per sicurezza prendiamo il straccio di codice che va da qua fino alla chiusura del body quindi in pratica quello che da id footbar precede la chiusura del body ctrl c e andiamo adesso nel sito da modificare a cercarci lo stesso file del tema che si chiama footer.php eccolo qua ci posizioniamo esattamente prima della chiusura del body per sicurezza controlliamo dobbiamo prendere in pratica quella parte di codice che è prima del body ma è sostanzialmente appena dopo la chiusura del div dopo l'attribuazione non commerciale condividi questo è per non sbagliare quindi ecco esattamente questo va sovrascritto ctrl v fatto aggiorna file benissimo fatto questo ecco che noi dobbiamo adesso inserire gli elementi del footer cioè se andiamo a vedere sul sito nuovo cioè quello che contiene adesso la barra vedete che c'è una sorta di nuovo elemento che però che contiene tutte le pagine quindi funziona ma adesso dobbiamo dirgli quali sono i contenuti del menu 3 quello che sta sotto il footer quindi ritorniamo in bacheca e andiamo adesso alla pagina diciamo al menu aspetto menu vedete che qua si è creato in automatico grazie a quell'elemento sul function.phip la posizione del tema menu 3 non dobbiamo fare altro adesso che andarlo a creare quindi creiamo un nuovo menu andiamo qua in fondo lo chiamiamo magari menu inferiore qui la collega l'ha messa un bel po' più e scriviamo menu inferiore e lo creiamo e cosa mettiamo nel menu inferiore? mettiamo ad esempio la pagina crediti piuttosto che la pagina come c'è qua note legali privacy mettiamo per il momento la pagina crediti qui la dobbiamo creare quindi creo una nuova pagina le pagine in pratica che io voglio va a andarsi a inserire in quel menu inferiore e le altre pagina crediti ho visto che la collega ce l'ha già facciamo la pagina note legali lì si tratterà e si tratterà casomai di spostarla la pubblichiamo per il momento non mettiamo contenuto anche qua però la pagina note legali c'è perché c'è il 2 allora andiamo a vedere che cosa c'è e che cosa non c'è dove l'ha messa note legali qua non ci sono insomma è già presente probabilmente ma non era stata inserita bene non c'è problema torniamo indietro è inutile farne una nuova andiamo sul menu e ci andiamo a cercare la pagina note legali vedete probabilmente è questa perché questa è quella che io ho messo per ultima ecco scusate per evitare pasticci allora mi conviene quella che ho appena creato eliminarla allora queste sono le pagine ordiniamola per data e la cancelliamo la cestiamo addirittura questa qua via bene allora ritorniamo sul nostro menu e andiamo a inserire la nostra note legali nel menu inferiore aggiungere il menu abbiamo creato e salviamo il menu poi ovviamente aggiungiamo anche le altre a questo punto non resta che dire che il menu 3 corrisponde al menu inferiore menu inferiore eccolo qua salva e andiamo a vedere se è vero vedete c'è soltanto la pagina c'è soltanto la sezione note legali però non è ancora inserita come stile in modo conforme al resto e allora ecco che c'è adesso l'ultimo passaggio ci andiamo a prendere lo stile ancora dal menu dal sito diciamo di riferimento andiamo in aspetto editor e andiamo a cercarci il foglio di stile e vi ricordate come era stato chiamato se non sbaglio footbar quindi vado a cercarmi con firefox modifica trova footbar e vedete che qua trovo proprio la sezione che è stata assegnata allo stile per il footbar tra l'altro è stata la sezione che ha poi realizzato angelo paganini da corniglio fine footbar presa tutta vedete anche questa poi la metteremo in un file distinto ctrl c andiamo qua butticino andiamo alla sua bacheca successivamente andiamo a prenderci da aspetto editor il file di stile eccolo qua ci mettiamo qua in fondo e andiamo a incollarlo eccolo qui ctrl v aggiorna file e andiamo a vedere ecco c'è però un problema qua legato a qualcosa ancora andiamo a vedere aspetto editor foglio di stile il problema ovviamente è che andava aggiornata la pagina vediamo un po' di aggiornarla in modo che prenda lo stile l'ha presa vedete a volte uno immagina non vede subito l'effetto e dice avrò sbagliato qualcosa con nonchalance e dice andiamo a vedere un po' cosa è successo poi viene in mente che in realtà le modifiche sul foglio di stile vanno poi riviste attraverso il refresh del browser ecco l'unica cosa che vedete funziona perfettamente ma è verde invece che deve essere invece deve essere blu beh per fare questo passaggio poi si tratterà di lavorare con firebug e andare a individuare questo colore di sfondi e sostituirlo poi con questo verde qua di notte legali in modo che rimanga tutto ben diciamo sistemato un'altra piccola miglioria che si può fare è probabilmente quello di ridimensionare lo spessore di questo bordo superiore che in questo caso sta meno bene secondo me così largo allora per fare questo ancora una volta si può andare con firebug e andare a vedere qual è l'elemento che è responsabile di questo spessore andiamo a vedere andiamo con analizza elemento clicchiamo in corrispondenza di quel bordo e andiamo a vedere quale potrebbe essere clicchiamo su id footer vediamo se troviamo qui no non c'è una diciamo probabilmente sarà un bordo andiamo a vedere allora da altre parti magari sul paragrafo vedete ecco quando io clicco in corrispondenza di div id footer p noto che qua c'è un border top che è di 10 pixel e tra l'altro qua noto anche qual è la l'esa dicimale che è cancelletto 000080 per sostituire quel verdone con quel blu farò buona memoria prenderò sostituito il foglio di stile ma qua ricorderò che il footer p border top invece che 10 pixel magari lo metto non so cosa succede se lo metto 1 no? troppo piccolo se lo mettiamo 3 insomma potete variarlo così a piacimento ecco queste sono tutte piccole migliorie che poi potete fare adottando quello che è la procedura di inserimento del menu inferiore alle caratteristiche di stile del vostro sito lo metto